e buonasera a tutti amici dei fuoricampo tifosi giallorossi e semplici simpatizzanti del mondo della roma buonasera siamo in macchina siamo tornando a casa facciamo però questo video ovviamente sulla derossi legacy per frosinone roma partita terminata 0 a 3 per i giallorossi io prima di parlare della gara però come al solito vi invito a iscrivervi a questo canale a mettere mi piace alla nostra pagina youtube e ovviamente a tutte le altre pagine social siamo i fuoricampo un canale che dà ampio spazio al campionato della serie b con venezia approfondimenti sul palermo che insomma è una squadra fortemente legata ai colori giallorossi avete il punto sulla serie b e poi avete questa derossi legacy seguiamo la carriera di daniele derossi come allenatore l'abbiamo fatto l'anno scorso a ferrara e ovviamente continuiamo a seguirli con la squadra giallorossa ovviamente con una con una gioia in più visto anche diciamo la passione che nutro per i colori della roma allora iscrizione commento e like importantissimo a questo video e possibilmente a tutti gli altri ragazzi iscrivetevi 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 è importante fateci girare e condividete allora frosinone roma primo tempo brutto squadra messa in campo malissimo un 4 2 3 1 che non aveva senso di esistere svegliare in porta questa è una grande novità credo un passo di cambio generazionale tra svegliare e lui patrisi vediamo se sarà confermato nelle prossime gare però questo un dettaglio importante dopo una buona gara col feio oggi migliore in campo sicuramente svegliare questo è la dice lunga sul sulla partita che la roma ha fatta a frosinone difesa 4 con angelinio a sinistra e christensen a destra huizen e mancieni centrali centrocampo paretes e cristante che anche oggi hanno confermato di non essere un centrocampo ideale per il calcio che si gioca in italia per il calcio che si gioca nel campionato italiano una tre quarti a tre con esciarawi baldanzi e asmun dietro a lukaku ha un ampio turnover in vista di una partita giovedì importantissima contro il feionard che vedrà la qualificazione agli ottavi di europa league in ballo la roma deve vincere perché l'andata è finita 1 a 1 e ricordiamo non ci sono più le regole per il gol fuori casa quindi roma deve necessariamente vincere se vuole passare il turno con il feionard primo tempo dicevo brutto il frosinone fa la partita tiene palla una roma poco attenta poco attenta perché arriviamo sempre secondi su ogni pallone non c'era la voglia di lottare quasi con la sufficienza della squadra forte che prima o poi trova la giocata per vincere la de rossi era incazzato nero per tutto il primo tempo e svigliare ripeto migliore in campo in almeno tre occasioni salva completamente il risultato ma poi sempre attentissimi in area di rigore esce molto alto veramente finalmente un portiere che gioca con la difesa gioca con la squadra un portiere che dà sicurezza un portiere in grado di andare a rubare quei palloni che troppo spesso ci hanno punito per magari scarsa attenzione del difensore ma soprattutto per un portiere che rimaneva troppo spesso sulla linea di porta quattro punti distano oggi tra la roma e l'accesso alla champions league diretta però con l'atalanta che ha una partita in meno da recuperare con l'inter e quei quattro punti non posso fare a meno di metterli su sulle spalle di un rui patrisio che quest'anno troppe volte ha lasciato a desiderare quindi sono contento di svigliarla abbiamo detto anche dopo il video contro il feionard sicuramente questa è una partita che conferma quanto di buono stia facendo svigliare nella sua crescita poi come al solito a roma ci saranno momenti in cui il ragazzo sbaglierà non bisognerà massacrarlo perché l'alternativa mi sembra veramente poco valida quest'anno quindi io darei ampio spazio a svigliarla qui a fine stagione per vedere se può confermare di poter essere il portiere titolare della roma per il prossimo anno da difesa e il centrocampo dicevo molto molto brutti le azioni di attacco completamente basate sul sul gioco dei singoli non c'era non c'era un fulcro non c'era un gioco oggi paretes è tornato il paretes poco contestuale che abbiamo visto nella prima parte di stagione rivero una roma messa male messa male il primo tempo una squadra che voleva fare un ampio turnover ma che non aveva una struttura di gioco troppe scelte offensive tutte insieme hanno portato una squadra che non aveva un legame detto questo alla fine non era del tutto sbagliato la l'analisi di attendere per sbloccarla con una giocata del singolo poi la giocata del singolo viene da un giocatore che non ti aspetti perché il primo gol di Uisen è un gol straordinario con una galoppata alla Ibanez alla Benatia alla Lusio per fare i nomi di giocatori fortissimi ma di cui due anche che hanno giocato con la maglia della roma e questo è un gol eccezionale prende palla sulla tre quarti palla passata da mancini taglia completamente il campo e arrivata al limite dell'aria la metta a giro sul sul palo lontano gol imprendibile grandissimo gol di Uisen beccato un po dal pubblico di Frosinone che non gli perdona di aver scelto la roma ai ciociari ma voglio dire ragazzi non non me ne volete ma credo ci sia una differenza sostanziale anche di di prospettiva tra quello che è giocare delle partite importanti con la roma ricordiamo Uisen non farà parte della delle partite europee ma comunque si sta giocando delle partite per accedere alla prossima Champions League e andare a giocare per la salvezza col Frosinone quindi ragazzo ovviamente sceglie sceglie per giocare con Mourinho poi Mourinho non lo trova trova De Rossi però sta trovando comunque ampio spazio fa un gran gol ammonito per una reazione tonta perché ovviamente essendo un ragazzo ha una reazione tonta fa fa specie che lui venga ammonito per un dito indice alzato davanti alla faccia e Acerbi invece per un dito medio neanche sia stato segnalato da dall'arbitro ma questo ovviamente succede succede spesso soprattutto quando riguarda la roma e quando riguardano altre squadre questa è una cosa normale per il resto il secondo tempo De Rossi che è un allenatore intelligente capisce che la squadra non è messa bene cambia Uisen e mette Llorente per evitare qualsiasi problema di doppio giallo un cambio molto alla Inzaghi però che ci sta ci sta in pieno questa volta e poi toglie toglie un Lukaku che deve respirare per mettere Pellegrini cambia un po' il modulo il centrocampo torna un centrocampo sostanzialmente a tre con Baldanzi e Sciaravi che giocano larghi Pellegrini che poi in fase offensiva si alza e va a fare il trequartista un capitano che sta ritrovando con Daniele De Rossi la gioia di giocare ma ripeto più che le prestazioni in colore fatte perché aveva litigato col Morigno perché era contro l'allenatore questa cosa solo a Roma si può sentire io credo che semplicemente Pellegrini sia un calciatore che deve deve giocare offensivamente sulla trequarti se lui parte con 30 40 metri di campo riesce a dare quel qualcosina in più e anche oggi ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore in quella zona del campo chiaro che quando deve giocare sui 60 70 metri non ha né la corsa né lo strappo né la capacità polmonare di andare e di andare ad incidere quindi semplicemente lo abbiamo visto ripeto anche il primo anno con Giuseppe Morigno quando giocava molto alto Pellegrini primo anno se non sbaglio fa 12 gol nella stagione nella metà stagione morignana fino al 4 a 2 con la Juventus dove si sbaglia un calcio di rigore ma ha fatto un gran gol su punizione in quella partita poi Morigno risistema la Roma gli dà una compattezza diversa per cercare di non subire gol cosa che oggi non si è vista la compattezza difensiva tipica delle squadre ma tipica anche di Giuseppe Morigno quest'anno non l'avevamo visto neanche con lui quindi poco cambia però oggi questa compattezza io non l'ho vista fanno sì che Pellegrini abbassi il suo raggio di azione e ovviamente ne risente la sua giocata il secondo tempo però la Roma si è sistemata meglio in campo riesce a trovare il gol del 2 a 0 con Asmun in tap in dentro l'area di rigore e poi anche il 3 a 0 che chiude definitivamente i giochi con Baldanzi che con un tiro si va a prendere un calcio di rigore con fallo di Manonetta che Paredes con voglia va a tirare e a segnare ritorna a note positive torna in campo Smalling che però nei 10 minuti in cui ha giocato abbiamo visto sicuramente non al meglio avrà bisogno di tempo per tornare in Smalling importante l'abbiamo visto con la maglia della Roma ricordo il ragazzo ha un altro anno di contratto e soprattutto in questo finale di stagione può fare la differenza può fare la differenza perché è un grandissimo calciatore la Roma può giocare a tre è tornato in Dicca che oggi non è entrato in campo abbiamo rivista Uara una Roma che sta completando la sua rosa al meglio per un finale di stagione che ancora ci può vedere protagonisti ovviamente hai perso quel derby in Coppa Italia quindi un trofeo non sarà più accessibile hai l'importanza del quarto posto che sappiamo soprattutto a livello economico quanta differenza ti fa e poi soprattutto un'Europa League da giocare giovedì con le palle perché giochi in casa davanti a 70.000 persone devi far valere sia il contesto casalingo sia un calcio diverso ripeto con più attenzione rispetto oggi perché non puoi concedere 24 tiri al Frosinone perché ragazzi il Feyenoord non è il Frosinone quindi forza forza Roma più attenzione condivisione di questo video like e commenti ragazzi ci vediamo nei commenti e poi ciao a tutti alla prossima